Il processo Cossa è ormai alle battute finali con la sentenza prevista per il prossimo lunedì 17 giugno. Tuttavia, l'ultima udienza ha sollevato non poche polemiche e ha interrogato a causa di un mistero riguardante alcuni nuovi verbali. Questi stessi verbali, che avrebbero dovuto essere presentati, contengono le testimonianze del nuovo pentito Luca Talarico, ma non sono mai stati effettivamente depositati. L'udienza ha rappresentato l'ultimo atto del secondo grado di giudizio di questo imponente processo che si sta svolgendo davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro. Il processo stesso, di fatto, è vicino alla sua conclusione. Il dibattimento di ieri è stato sostanzialmente interlocutorio e la sentenza finale è attesa proprio per il 17 giugno. Questo rinvio e la gestione del dibattimento hanno suscitato malcontento e perplessità sia tra gli imputati che tra i loro legali. I dubbi sono emersi, in particolare per quanto accaduto nelle precedenti udienze, gettando un'ombra sull'intero procedimento e alimentando sospetti riguardo alla mancata presentazione dei verbali contenenti le dichiarazioni di Talarico. L'aspettativa è ora concentrata sul lunedì prossimo, quando la Corte d'Appello di Catanzaro dovrebbe finalmente pronunciare la sentenza, mettendo un punto a questo lungo e controverso processo. Tuttavia, il mistero dei verbali non presentati resta un elemento di inquietudine che potrebbe avere ripercussioni sul giudizio finale e sull'intero iter giudiziario completo.